Ciao Bardo, chiedo un tuo parere sul come mai c'è l'idea che il fan di wrestling venga etichettato come un tizio introverso o che è rimasto un po' troppo bambino e che abbia una vita sociale limitata. Beh, ti dico la verità, almeno per quella che è la mia visione, non si può fare di tutta l'erba un fascio, però credo che anche a livello sociologico in America siano stati fatti degli studi e il 50% dell'utenza ricada in questo identikit, se non tutto almeno in parte. E ti dico la verità, io stesso ci rientro, ma non è necessariamente una cosa brutta. Essere introversi, io in realtà ho dei picchi, nella mia vita privata lo sono. Quando devo andare in scena divento io il licantropo e mi trasformo. Quindi vivo più personalità, paradossalmente, a seconda di quello che devo fare. Però a me piace stare da solo, leggere un fumetto, leggere un libro, andare a teatro che è comunque un'esperienza solitaria. Anche andare al cinema lo è, poi parli con gli amici, fai rumore, ma a teatro non puoi. Magari ne discuti una volta che esci, no? Quindi essere introversi vuol dire poi, a volte, cercare nella fantasia, non rimanere bambini, ma nella fantasia una valvola di sfogo. La fantasia letteraria, teatrale, la fantasia fumettistica, la fantasia cinematografica, la fantasia legata all'arte. E il wrestling è la summa, probabilmente, di questa situazione, di questo ambiente fantastico, perché il wrestling è un mondo parallelo dove ti puoi immergere e divertirti e sentirti anche un po' meno solo. Il fan di wrestling ha una vita sociale limitata? Anche questo può darsi. Una buona metà probabilmente ce l'ha limitata. Però basta andare ad uno show e si vedono famiglie, fidanzati, amici. Quindi non è che sono tutti all'interno di questo archetipo. Però c'è una, non dico maggioranza, ma una buona metà che potrebbe rientrarci. Ma non significa che queste cose siano necessariamente negative. Io non le vedo come negative, anche perché avere una vita sociale espansa non è sinonimo di avere una vita in perfetta salute. Anzi, frequentare poche persone, almeno nella mia visione, poche, ma fidate, sicure, davvero amiche, è meglio che avere una infinita, un infinito elenco telefonico di conoscenti che poi in realtà non ci sono mai. Però ecco, credo che derivi tutto da studi sociologici che magari vanno un po' ammodernati, perché sono stati fatti dieci, quindici, vent'anni fa. Quando c'era un wrestling diverso in televisione e quando l'utilizzo dei social, dei cellulari e la cultura giovanile non era assolutamente quella odierna. Ad esempio, io ormai ho più di 40 anni e proprio poco fa, pensando, guarda ti svelo questo segreto, poco fa, pensando ad uno dei miei amori giovanili non corrisposto, mi chiedevo, ma se fossimo nati sei, sette anni dopo? E io sono nato nell'epoca in cui per telefonare ad una ragazza dovevi chiamarla a casa, col telefono, e ti poteva rispondere la madre, il papà, il fratello, la sorella, se ce l'aveva. Sei, sette anni dopo gli adolescenti si parlavano col cellulare, con gli sms, dieci anni dopo chiamarsi su un cellulare di proprietà, lo fanno i ragazzini delle medie. Pensa che differenza poteva fare, su di me avrebbe potuto fare, l'essere nato dieci anni dopo, parlo a livello di socialità, a livello sociale, utilizzando i social e appunto le tecnologie arrivate dopo. Quindi può anche darsi che oggi ci siano in realtà dei giovani appassionati, le nuove generazioni che non sono così asociali, e che abbiano delle vite più ricche dal punto di vista delle interazioni con gli altri. Visto che questo identikit che andiamo ad analizzare, non credo sia fresco, ma sia appunto un qualcosa che da tradizione è stato tramandato da un qualche lustro. Lustro sono periodi di cinque anni, quindi credo che sia questo il focus e il punto, ok? Però anche qui mi apro al dibattito nel caso stiate guardando l'estratto tolto e macinato dalla diretta.